Signore e signori, buongiorno, benvenuti a casa mia e benvenuti nella mia biblioteca. Oggi ho deciso di parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ovvero sia perché questo signore e i suoi libri mi fanno incazzare come un animale. Allora, sia ben caro una cosa, Antonino Trizzino, l'autore del celeberrimo Navi e Poltrone, l'autore di questo Settembre Nero, l'autore anche di Uomini sul Fondo, libri che all'epoca della loro pubblicazione tra gli anni 50 e 60 ebbero un clamoroso successo di pubblico. Soprattutto il maledetto Navi e Poltrone, con la sua teoria del tradimento degli alti gradi della marina che, a sentire questo ex colonnello dell'aviazione, erano né più né meno informatori degli inglesi. Ora, noi sappiamo già da 40 anni che ad informare gli inglesi provvedeva, ultra che decifrava in tempo reale, i codici tedeschi e violavano già da tempo impunemente i codici anche della nostra marina. Però, nonostante tutto, nonostante questo, ancora io mi devo sentir citare come fonte di verità e come fonte di soluzione a terribili segreti, questo, Navi e Poltrone e Uomini sul fondo. E la cosa mi fa incazzare perché vuol dire semplicemente non avere un'idea di quello di cui si parla, vuol dire semplicemente non sapere che in 40 anni sono venute fuori tante nuove informazioni, tante nuove cose e sono stati sbugiardati e sbufalati tanti pseudostorici come il Trezzino, che avevano costruito piccoli imperi sulle bufale. Imparate a leggere e scrivere, informatevi un attimino, se proprio volete sapere cosa fece la nostra marina durante la seconda guerra mondiale, lasciate perdere Trezzino soprattutto ora e concentratevi su questo, Giorgio Giorgerini, la guerra italiana sul mare, ovvero sia come la nostra marina affrontò la guerra, il conflitto contro gli alleati. È una lettura molto tecnica, non facilissima, ma che va affrontata per sapere le cose e capirle. Bisogna leggere le cose, bisogna ragionarci sopra, bisogna cercare di capirle e di capirle e bisogna soprattutto pensare a cosa dovettero affrontare i nostri marinai durante la guerra. Lasciate perdere le fantasiose teorie del complotto, l'intelligenza degli ammiragli italiani col nemico, il tradimento della marina, gli informatori inglesi sparsi ovunque, cioè volete farmi ridere? Ricordiamoci una cosa, la regia marina italiana era un'arma che aveva gli alti gradi messi lì da una persona, una persona aveva garantito quelle carriere, il cavalier Benito Mussolini. Se gli ammiragli della regia marina italiana erano in quelle posizioni di comando, erano in quelle posizioni di comando perché ce li aveva messi Mussolini, non ce li aveva messi mica il partito comunista, non ce li aveva messi mica il foreign office inglese, li aveva scelti e voluti Mussolini, i vari Cavagnari, Brivonesi, Iachino eccetera eccetera eccetera, erano tutti uomini messi lì da Mussolini che dovevano le loro carriere e la loro posizione di comando al fascismo. Ponto. Se erano traditori venduti agli inglesi evidentemente Mussolini non sapeva scegliere i suoi uomini. Pensiamoci, pensiamo anche a questo. Comunque sia, chiusa parentesi, uno dei motivi per cui leggere questo libro è il fare chiarezza su tante leggende urbane, è anche il fare chiarezza sul fatto che la vera guerra della nostra marina non fu combattuta con le unità maggiori, incrociatori, corazzate eccetera eccetera che non misero mai a segno un colpo d'artiglieria sul nemico, mai, mai, ma fu combattuta dalle unità minori, dalle corvette, dalle unità di scorta, dai cacciatorpedinieri che fecero miracoli per garantire al nostro esercito i rifornimenti in Albania, in Grecia, nei Balcani e in Libia. Se proprio volete farvi una cultura sulla marina ripeto buttate nel cesso trizzino e leggetevi Giorgerini. È l'unica. Vi conviene. Però ricordatevi una cosa. Bisogna saper capire quello che dice, bisogna saperci ragionare sopra e soprattutto bisogna saper leggere e sapere da che parte si apre un libro. Questo, questo non lo trovate sui video di YouTube dove c'è scritto condividete prima che censurino. Clamorose rivelazioni. Clamorose rivelazioni. Sto cazzo! La storia, ricordatevi sempre, non la scrivono i vincitori. La storia la scrivono gli storici. La storia è una. La storia non è mai scritta dai vincitori. La storia si scrive da sé. Sta a noi capirla e ragionarci sopra, dimenticandosi il tifo da stadio. Ce lo siamo capiti, signori? Ok. Signori, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Grazie mille.